...gli appunti e chi hai trovato. Attenzione, stai abbandonando l'aria sicura. 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 stavano per peggiorare. Ho visto un tizio per strada in una tuta sterile e ancora non riesco a credersi. Un lanzafiamme! Ogni volta che c'era un corpo ci si avvicinava e era orribile! Ha fatto la stessa cosa ogni singolo corpo. Poi quando ho visto quella piccolina che cercava del cibo, Elisabeth Telliers, ha provato a bruciare anche lei! Per fortuna è riuscita a fuggire ma mio dio quanto devi essere malato per voler dare fuoco a una bambina! Quando siamo arrivati sull'isola avevamo una missione semplice. Proteggere determinati edifici dai saccheggiatori, dai ladri e dai vandali. Facile e pulito. Quando quei teppisti sono arrivati da Rikers Island li abbiamo fermati immediatamente. Forse pensavano di metterci sotto senza problemi, ma non ce l'hanno fatta. E hanno imparato qualcosa sulla disciplina quel giorno. Ve lo dico io. Buongiorno, sono Aaron Keener. Ti ricordi di me, non è vero? Sono il cattivo. Non che abbia alcuna responsabilità in tutto questo, ma secondo la JTF ho contribuito a peggiorare la situazione. Certo, c'è anche da considerare che se chiedi alla JTF qualsiasi cosa al di là di una bottiglia d'acqua, il problema è anche tuo. Comunque ci sono novità. Sono qui, sono vivo, di nuovo ancora finito. Proprio per nulla. ... Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.